La cittadinanza onoraria di Pescara, Liliana Segre, la senatrice a vita ebrea sopravvissuta alla Shoah, diventa caso nazionale con la politica locale che si divide, seppure con doverosi distinguo, con il centro-sinistra favorevole e il centro-destra che pur non dichiarandosi contrario sostiene la mancanza di legami della senatrice con la città di Pescara. La nostra posizione è di piena solidarietà per le minacce ricevute dalla senatrice a vita Liliana Segre e solidarietà nei confronti di tutti coloro che ricoprono un ruolo pubblico nelle istituzioni e che nell'esplicazione di atti e attività pubbliche ricevono minacce sui social e non solo. Quindi hanno fatto bene il prefetto e faranno bene tutti i prefetti che assegneranno scorte a tutti coloro che ricevono minacce sui social. Cosa diversa dalla cittadinanza onoraria, io credo che la senatrice Segre abbia ricevuto la più alta onore di Vicenza che lo Stato possa dare a un personaggio pubblico che ha subito quello che ha subito, quindi il titolo di senatrice a vita penso che sia ampiamente sufficiente per testimoniare la vicinanza di tutto il popolo italiano alla senatrice Segre. Altra cosa è la cittadinanza onoraria che credo sia un butato che peraltro, come ho detto specificato nel comunicato, non attiene nemmeno ai legami con la città di Pescara. Si è spaccato il centrodestra perché c'è una parte che a favore il sindaco insieme alla Lega sono contro. Noi comunque presenteremo l'ordine del giorno e vedremo se riusciranno a trovare la quadra, quadra che per esempio la città di Varese ha trovato perché a Varese tutti hanno votato per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. La Lega sostiene che non ci siano però legami diretti tra la senatrice Segre e la città di Pescara? Questa è veramente una grande... mi fa sorridere se non fosse triste. La cittadinanza onoraria si dà proprio per creare un legame con persone dal grande valore. Se fosse cittadina non avrebbe bisogno della cittadinanza onoraria. Ricordo che gli stessi che dicono questo oggi hanno votato a favore per la cittadinanza onoraria pescarese al PM di Matteo che non ha assolutamente nessun legame.